Dal momento che hanno deciso di togliere quelle cose, come si dice? Le transenne? Qualcosa dovevo mettere, altrimenti la gente monta le macchine e le mettono dove gli pare. Quindi secondo lei questa è una soluzione per le auto, per non far salire sopra il marciapel dell'auto? Come no, per che motivo? Sono più belle o più brutte? Più brutte, sono più brutte così. La spesa del comune era fatta in più, questa è la spesa in più. La gente metteva le macchine dentro, faceva una grossa contravenzione, era meglio che aveva speso queste qui. Quindi secondo lei sono inutili? Sono inutili, come aveva messo i rallentatori, che ci hanno messo a fare e non l'hanno tolti. Ma l'hanno fatto il comune. Queste qui sono brutte, quelle che c'era prima era parecchio meglio che te andavi lì e ci poggiavi. Non mi riesce a capire il motivo perché ce l'hanno messo, forse perché hanno paura che la gente parcheggi qua o forse vogliono dare un nuovo significato a questa stanza che avessero messo più panchine. Preferivi due panchine a queste sfere? Sì, molto. Ma secondo voi sono più belle queste sfere qui o quella cosa che c'era prima, quelle transenne? Ma, tra tutte e due, forse era meglio quelle e metterle nuove, ma queste dicono, ma anche queste non mi piacciono, né queste né quell'altra. Anche quelle secondo te che funzione c'avevano? D'appoggiarci il pomeriggio, lo so, secondo me era meglio le panchine. Invece queste non ci si può appoggiare, niente. Che scopo possono avere? Qualcuno ha detto per allacciarsi le scarpe, voi che ne pensate? Anche per allacciarsi le scarpe, per carità, possono essere usate anche per qui. Ma possono anche consumare lì sopra. Quale soluzione avreste utilizzato se no alternativa alle sfere? Ma anche quella sua delle panchine era buona, secondo me. Se ci mettevano un po' di panchine, anche le vecchie ringhiere, magari le facevano nove, ma a me queste sfere non mi dico niente. Sfere bocciate? Sì. La peggiore delle opzioni. La peggiore delle opzioni. Che ne pensate le nuove sfere di Porta Fiorentina? Penso che siano carine, poi soprattutto spero che siano utili. Secondo lei quale utilità avranno? Probabilmente per non far entrare le macchine nella zona pedonale. Ma meglio queste o quelle che c'erano prima? Io penso che siano meglio queste, sono in ogni caso più artistiche. In giro per la città stanno svolgendo anche altri lavori, ha notato qualcosa di nuovo che le è piaciuto, che ti è piaciuto di meno? Sì, certo. A me è piaciuto. Penso che sia comunque necessaria una rinnovazione in ogni caso e anche un miglioramento della cittadina. Grazie. 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 Grazie.